Zona Monte, tra il Parco Bucci e via Vittorio Veneto, palazzina di sole 4 unità, appartamento al secondo ed ultimo piano con ingresso su soggiorno, balcone ad angolo, cucina separata, due camere da letto, due bagni, oltre a cantina e posto auto coperto all'interrato e posto auto scoperto nell'area comune. Beh, cosa stai aspettando? Ciao, sono Alan di Garoni Immobiliare e oggi ti accompagno a vedere questo appartamento in vendita. Grazie a tutti. Sono sicuro che questa visita digitale ti ha incuriosito, perciò contattaci e ti accompagneremo molto volentieri. Ci vediamo in visita!